Il taglio del nastro era previsto per il mese di agosto ma qui i lavori non sono ancora terminati. Verrà rimandata dunque l'inaugurazione del primo tratto della passeggiata romantica che si snoda fino alla ferrovia. A spiegare i motivi dei ritardi sull'intervento di riqualificazione della darsena borghese a Fano è l'assessora al decoro Barbara Brunori che sta seguendo l'evoluzione del cantiere insieme all'assessora ai lavori pubblici Fabiola Tonelli. La ditta paltatrice che deve terminare i lavori ha avuto un incidente grave che ha sospeso poi l'attività degli operai in queste settimane estive. Questo naturalmente rallenta la consegna di lavori che arrivato a questo punto mi trattengo nel dare una scadenza perché non sono in grado. Da lunedì si riattiveranno comunque per terminare la seconda parte perché la prima come vedete è stata conclusa nel senso che le ditte interessate a questo lavoro erano tre. La ditta paltatrice che è Antonacci che è quella che doveva curare tutte quelle che sono le strutture architettoniche, le pavimentazioni, la posi in opera delle panchine, degli arredi e quindi tutta la parte architettonica. E la ditta del verde che la prima parte l'ha rimverdita tutta, la prima scarpata è già pronta con i cespugli, come vedete già anche qui è stato steso del prato pronto proprio per favorire una crescita veloce e come dire un'inaugurazione anche conseguente. Dalla ditta che si occupa del verde, ha precisato l'assessore, manca solo la posa in opera dei cespugli nella seconda parte della scarpata. Prima si deve fare la posa in opera delle sedute, quindi delle panchine, di queste grandi panchine in marmo, della rimessa in sicurezza di quelli che sono i cordoli, i moletti, i mitrofi, dei corrimano nei camminamenti, quindi nelle discese e poi siamo pronti. Bisognerà attendere però ancora qualche mese per vedere terminato il progetto firmato dall'architetto Remigio Bursi. Ci aspettiamo di riconsegnarvela al meglio perché la terza ditta che è invece quella dell'illuminazione ci ha consegnato tutto in forte anticipo, tra l'altro un'illuminazione suggestiva che proprio quest'estate in una delle prove notturne abbiamo avuto il piacere di testare con i turisti che tutti affacciati alla balconata con stupe ore erano a bocca aperta perché davvero sarà un'opera bella, suggestiva e importante per la città.